E dopo le iniziative natalizie che hanno animato il centro di Adria, anche con il villaggio di Babbo Natale che vediamo in questo momento, ma anche assieme a tante altre iniziative che sono state organizzate nel centro della cittadina polesana, oggi si guarda già a Befana e al 6 gennaio. A partire dal 1 gennaio 2023 infatti sono in programma molte iniziative.